Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura parliamo di Covid. C'è attesa per il nuovo DPCM che scatterà il 6 marzo e dovrebbe essere valido per un mese. Il governo prepara nuove restrizioni per Pasqua, mentre la campagna rischia la zona rossa. Consueto punto Covid nel Vesuviano, ieri a Torre del Greco registrati 53 nuovi contagi. Abbiamo ascoltato i pareri dei cittadini torresi. Spazio alla cronaca, estorsioni e maltrattamenti ai danni di una nota attività commerciale. Arrestato a Torre del Greco un uomo di 44 anni. Poi presentato oggi a Palazzo Baronale il nuovo piano urbanistico comunale. Abbiamo intervistato l'assessore Gennaro Polichetti. Infine spazio allo sport con la Turris. Prima partita per il nuovo tecnico corallino Bruno Caneo nel derby contro la Casertana. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Attesa per il nuovo DPCM che scatterà il 6 marzo e dovrebbe essere valido per un mese, imponendo così divieti e restrizioni anche per Pasqua e Pasquetta, le seconde dell'era Covid. Sarà con ogni probabilità confermato il divieto di spostamento tra regioni. Lo stop è valido fino al 27 marzo, ma insieme al prossimo DPCM che disciplinerà le misure fino al 6 aprile, potrebbe essere nuovamente prorogato con un decreto. Come sempre è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, così come gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità. È consentito recarsi nelle seconde case anche se sono in zone rosse, ma cioè valido solo per il nucleo familiare. Tuttavia le regioni possono autonomamente decidere di inasprire le regole a tal proposito. Negozi chiusi solo in zona rossa, dove sono garantiti esclusivamente gli esercizi commerciali di prodotti essenziali. In zona gialla e arancione tutti i negozi sono aperti, mentre continuano ad essere chiusi i centri commerciali nel fine settimana. Si attendono anche le ultime novità in relazione ai colori delle regioni, dopo la consueta valutazione dei dati del ministro della Salute Roberto Speranza. Intanto in campagna si registra un nuovo leggero aumento del dato dei contagi. Numeri che preoccupano il governatore Vincenzo De Luca, che non ha chiuso nei giorni scorsi al possibile declassamento in zona rossa. Continua a crescere il numero dei positivi al Covid-19 nella città di Torre del Greco. Sale a 53 il numero di positivi nella giornata di ieri, 52 dei quali in isolamento domiciliare e un solo in regime ospedaliero. Si registra anche un decesso, si tratta di un classe 1939. Sale a 38 invece il numero delle guarigioni nella cittadina torrese. A Torre Annunziata invece sono 27 i nuovi casi Covid a fronte dei 332 tamponi effettuati. Si registrano inoltre 17 guarigioni. Sono quindi 913 i cittadini attualmente positivi, di cui 41 con variante inglese, con un rapporto tamponi positivi che resta all'8,13%. A Ercolano invece sono 5 i nuovi casi di positività a fronte di 5 guariti, lasciando così invariato il numero dei positivi che al momento si attesta a 42, tutti manifestanti la cosiddetta variante inglese. Tutti i soggetti positivi sono asintomatici e in quarantena presso le loro abitazioni. A San Giorgio a Cremano sono 215 i positivi con 3 nuovi casi registrati nella giornata di ieri. Sono 31 i positivi alla variante inglese, 6 di questi in età scolare. Resta alta quindi l'attenzione dei comuni vesuviani, che vedono crescere la curva dei contagi che in Campania, ieri, è giunta a quota 10,08% nel rapporto positivi tamponi. Situazione Covid, alla luce degli ultimi dati, lei ha paura? No, perché? È il nostro vivere quotidiano. I dati leggermente in rialzo, il continuo diffondersi di questa variante, non la preoccupano? No, mi preoccupa perché non fanno presto a fare i vaccini, quello è più importante del contagio. Che se facessero i vaccini oggi saremo un buon punto di guarigione, come ha fatto l'Inghilterra, l'America, l'Israele e l'Europa sta indietro. Quindi agire sulla prevenzione col vaccino anziché ricorrere ai ripari con le chiusure? L'unico riparo della malattia è il vaccino, poi i contagi avvengono, è un anno che è uscito il Covid, io frequento tutto a fare e fino a 2 ore il virus mi ha toccato, o sono fortunato, non lo so. Situazione Covid, alla luce degli ultimi contagi, degli ultimi dati, lei ha paura? Non più di tanto, temo per gli anziani, per le categorie più deboli, per le persone malate, ma in realtà si muore più di fame, si muore più di altre malattie che di Covid, c'è tanta visibilità mediatica mirata, perché dietro c'è un progetto molto grosso delle lobby, io su questo sono assolutamente convinta, anche rispetto ai vaccini, i vaccini noi stiamo arricchendo le tasche delle case farmaceutiche, è tutto fatto così in fretta, senza nessuna storia clinica, noi non conosciamo niente di questi vaccini, non conosciamo assolutamente nulla né dei vaccini né di quello che possono, ciascuno dice la sua, noi brancoliamo nel buio e siamo tutti alla ricerca di un equilibrio che dobbiamo cercare ciascuno dentro di noi. E' d'accordo con l'istituzione della zona arancione? Della zona arancione diciamo di sì come restrizione, io preferirei fare praticamente un primo lockdown generale, in modo da poter dare la possibilità di far arrivare vaccini, in modo che nel frattempo mentre siamo tutti quanti chiusi, nel momento ci riusciamo a vaccinare tutti e possiamo fare un'avvertura totale. Per me questa è tutta una grande messa in scena e si denota dai numeri, perché 10 o 12 morti covid al giorno, diciamo che poi si deve, visto le ultime notizie si devono sempre verificare che tipi di morti sono e tutto, le terapie intensive che dicono sono al culmine quando poi non è vero. 52 sintomatici, che per me i sintomatici possono essere anche solo quelli che hanno un raffreddore. E 1.300 asintomatici, per me non è una situazione per cui possiamo ci giustificano queste chiusure, ci stanno facendo morire in economia, ci stanno facendo morire in una gioventù. Questa è solamente una manovra, basta, nient'altro, questa è la situazione covid. Il problema sai qual è? Che purtroppo siamo costretti a tenere questa cosa, anche se il decreto legge, cioè non è una legge, noi come regola che stacca, è una violazione della Costituzione. Situazione covid, cosa pensa, qual è il suo pensiero alla luce degli ultimi dati? Gli ultimi dati non sono rassicuranti, mia opinione, le scuole vanno chiuse, tutto chiuso almeno per una quindicina di giorni. Questa dovrebbe essere la partenza, per vedere un po' poi dopo che cosa succede. E' d'accordo quindi con l'istituzione della zona arancione? La zona arancione è solamente per i commercianti, i ristoranti, ma per le persone non cambia assolutamente nulla. Fuori comunque ai bar ci sono gli aggregamenti, in piazza qua aggregamenti, quindi deve essere rossa. Arancione è un colore che non fa peso presso la popolazione. Gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni. L'uomo è gravemente indiziato di attività estorsive e danni di una nota attività commerciale nella cittadina torrese e di maltrattamenti in famiglia. Le indagini della squadra investigativa del commissariato di Torre del Greco, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno visto luce solo a seguito della denuncia alle forze dell'ordine da parte della titolare dell'esercizio commerciale che subiva atti estorsivi. Il 44enne da circa un anno e mezzo avanzava a richieste estorsive nei confronti della donna, minacciandola anche presentandosi presso l'esercizio commerciale. La titolare era costretta a versare somme di denaro che andavano dai 50 ai 200 euro, oltre a tollerare che lo stesso si recasse quotidianamente nell'esercizio dal quale prelevava prodotti di genere alimentari senza pagarne il prezzo. Nel corso delle indagini è stato possibile accertare che il 44enne aveva, nel corso degli ultimi tre anni, esercitato violenze particolarmente gravi nei confronti della sua compagna anche in presenza di minori. Formato il nuovo piano urbanistico comunale della città di Torre del Greco, un importante passo da parte dell'amministrazione per una valorizzazione del territorio e una crescita sociale, economica e culturale. Questa mattina siamo stati con le telecamere di TV City presso il Palazzo Baronale per la presentazione del nuovo piano. Durante la conferenza particolare attenzione è stata dedicata all'area portuale, centro dello sviluppo economico della città, ma anche alla rivalutazione di siti come Villa Sora, la Cittadella dello Sport, il Parco del Colle di Sant'Alfonso e il Parco Pubblico Bottazzi, senza dimenticare il recupero e la rivalutazione del cimitero comunale, del mercato e dell'area dell'ex sementificio. Abbiamo ascoltato l'assessore con delega all'urbanistica Gennaro Polichetti. Primo passo con l'approvazione del piano urbanistico comunale, quale sarà il secondo step? La seconda fase prevede che dopo la pubblicazione ci possa essere un'evidenza pubblica affinché tutta la cittadinanza, sia normali cittadini o associazioni imprenditori, possano fare le loro osservazioni su quelle che sono le cose previste da questo piano strutturale. Quindi si effettiverà questa cosa che avrà un termine, dopodiché ci sarà un'accettazione o meno in giunta di quelle che sono le osservazioni che verranno presentate e poi c'è l'avvio della conferenza di servizi che condurrà alla fase finale di approvazione da parte del Consiglio comunale che dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre del 2021. Quindi siamo credo perfettamente in linea con i tempi, anzi forse ci siamo anche anticipati rispetto ad altre amministrazioni comunali e pensiamo appunto di poterli rispettare dando finalmente questo strumento di grande importanza alla città. Quali saranno più o meno le azioni concrete che si metteranno in campo? Ci sarà molta attenzione sullo sviluppo e la riqualificazione e l'ampliamento dell'area portuale per esempio, ma anche quello che riguarda determinati ambiti della periferia urbana, del litorale di Torre del Greco che riveste una grande importanza e che purtroppo per anni è stato un po' lasciato andare e crea i presupposti affinché si possa attivare tutti quei finanziamenti pubblici che in questo momento stanno per essere destinati anche a Torre del Greco attraverso il recovery fund o attraverso il grande progetto Pompei e quindi avere una ricaduta sul territorio piuttosto evidente. Da domani avrà inizio per la Turris un nuovo campionato. Serve infatti lasciarsi alle spalle settimane di delusioni, con un digiuno di vittorie che si trascina ormai da fin troppo tempo. Nel 2021 i Corallini non hanno mai vinto, vedendosi avvicinarsi pericolosamente la zona play-out. La società dal canto suo ha provato a dare la scossa con l'esonero di Franco Fabiano ed il conseguente ingaggio di Bruno Caneo. L'ex Rieti esordirà allo stadio Americo Liguori nell'erbi campano contro la Casertana, in programma del pomeriggio di domani alle ore 17.30. La classifica per la squadra ospite si presenta più agevole, con 33 punti che valgono al momento il decimo posto in classifica. Da riscattare la sconfitta casalinga incassata contro l'Avelino per 2-0, ma i Corallini necessita di una vittoria che sarebbe boccata ad ossigeno in vista del tour de force finale. Allo stadio di Torre del Greco si affronteranno le due peggiori difese del girone, fattore che non esclude una gara vincente e ricca di reti. A dirigere l'incontro sarà il signor Daniele De Tommaso della sezione di Rimini, al debutto stagionale nel girone C, supportato dagli assistenti Porchedu e Collu e dal quarto uomo Angelo Tomasi. Intanto è di ieri l'ufficialità dell'acquisto di Aleksandru Boiciu, contrattualizzato fino al 30 giugno 2021 con opzione per le due successive stagioni. Classe 97 in Moldavo già da qualche giorno si era aggregato al gruppo, ed è stato valutato anche dal neotecnico Caneo. Possibile anche una convocazione per il match di domani, nel quale non farà parte di Nunzio, espulso nell'ultimo match. Vedremo, dunque, se il cambio di guida tecnica produrrà i benefici, e se la squadra riuscirà a dare delle risposte sul piano del gioco e del carattere. Vero punto di forza della Turris prima della crisi. 340-6561-484 Grazie e buon weekend! Grazie a tutti!